Le tecnologie IT sono un insostituibile supporto per la gestione e lo sviluppo delle attività di business. Perciò la scelta di un nuovo PC deve essere fatta con cura, ricercando prestazioni caratteristiche adeguate alle esigenze professionali, ponendo in secondo piano il costo di acquisto. Gli Ultrabook gestiscono molte applicazioni insieme, sono compatti, prestanti, ideali in mobilità, sono un'ottima dotazione per i dipendenti a un buon costo. I tablet permettono di accedere alle informazioni mentre si è in viaggio o in riunione, in modo semplice e immediato. Garantiscono un'alta portabilità grazie a peso e dimensioni ridotti. I PC ruggedized sono realizzati per operare in condizioni estreme, sono utilizzati dalla polizia, dai militari, dal personale del pronto soccorso o dai tecnici delle compagnie di utility che effettuano assistenza sul territorio. I PC ad alte prestazioni usano processori multicore per gestire operazioni impegnative, come il montaggio video o la progettazione in 3D con soluzioni CAD. Si aggiornano con facilità e si interfacciano con numerose periferiche dell'azienda, la sicurezza è a rischio ogni giorno, in ogni luogo e la perdita di dati ha un effetto devastante per le imprese. La criptografia BitLocker di Windows aiuta le imprese a proteggere i dati sensibili e l'uso di Chip Trusted Platform Module permette di bloccare i dispositivi smarriti o rubati. L'hardware TPM consente inoltre di accedere facilmente e velocemente alla rete aziendale. I PC per utilizzo in mobilità sono dedicati agli utenti che non hanno un ufficio fisso, sono potenti e possono essere dotati di funzioni di protezione sofisticate come i chip TPM. Ricordate che guidare il cliente nella ricerca del PC adatto è un punto di forza. Le risorse di Microsoft vi aiuteranno ad approfondire le soluzioni disponibili sul mercato. Un grande hardware merita un grande software. Grazie a tutti.